Buongiorno ragazzi, oggi vorrei parlare della leggerezza. Che cos'è la leggerezza? Ne abbiamo già accennato in un video precedente. È quella capacità di sorvolare sulle cose, di guardarle dall'alto, di prendere quindi un po' la distanza da tutto quello che magari ci sembra ostile, pesante e anche un po' triste. Quindi essere leggeri non significa essere superficiali e vivere la vita con una certa fatuità, ma significa proprio essere un po' filosofi. Allora, la leggerezza va inventata e ognuno troverà la sua, ma bisogna poter osare il volo. Si deve volere e poter tornare a volare, come vi dicevo prima, quindi guardare le cose un po' dall'alto. Facciamo un esempio. L'albero non può soltanto avere fronde che fluttuano libere nel cielo e giocano con le nuvole o si fanno carezzare dal vento. Vero è che se avesse solo radici e tronchi nodosi, senza fronde che ne permettono la fioritura, sarebbe monco, rimanderebbe l'immagine di qualcosa di mozzato o in sé impossibilitato ad esprimersi. L'albero ha tante radici quante fronde e così è l'essere umano, quindi pensiamoci come un albero. Le radici sono ancore, possibilità di sostentamento, capacità di sostegno e di trasformazioni dei principi nutritivi, dimora per gli animali e per gli insetti, possibilità di stabilità, capacità di reggere il terreno intorno a sé, affinché non frani, portando via anche l'albero stesso. Così le fronde invece sono la possibilità di ondeggiare, fruttificare, seminare, danzare, cantare al vento, scuotersi e modificarsi, ospitare il riposo e i nidi degli uccelli e degli esseri volatili, accogliere il cambiamento nel mutare delle stagioni, rinnovarsi ogni primavera e morire un poco ad ogni inverno. Possiamo quindi aspirare alla calma, alla resa che ci salva dal braccio di ferro che ingaggiamo con la vita, ma vogliamo una resa che non sia rassegnazione e un annullamento del sé, che coincida quindi fare pace con se stessi. Quindi vorremmo il benessere, vorremmo star bene, vorremmo poter essere veramente come un albero che ha delle radici profonde e radicate al terreno, quindi le nostre tradizioni, la nostra famiglia, i nostri valori, i nostri veri amici, ma vorremmo poter essere anche come le fronde dell'albero che si liberano libere nel cielo e possono accettare il cambiamento. Allora io vi invito a fare un esercizio, disegnare il vostro albero, cioè come siete voi e se poteste scegliere come lo vorreste questo albero e di che cosa si potrebbe nutrire, a cosa si radica e a dove vuole andare, dove vuole andare, dove vuole volare. Quindi disegnatevi, immaginatevi veramente come un albero, cercate di pensare quindi a voi come esseri terreni ma anche spirituali. Vi invito a fare questo esercizio.